Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Baldarno e Firenze Sud. Sulla 1 panoramica per lavori di pavimentazione stanotte e domani notte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Contestualmente chiusi gli svincoli di Pian del Voglio in entrata verso Roma e di Ronco Bilaccio in entrata verso Roma e in uscita provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FIPILI un chilometro di coda per lavori tra Firenze e Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in viale Amendola chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48 fino al 15 settembre. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!